Musica Buonasera e bentrovati al secondo appuntamento stagionale con Diretta Sindaco. Mi scuso anticipatamente per la voce, un male di stagione, però l'importante è che la voce ce l'abbia è il nostro ospite di questa sera che è il Sindaco di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi. Buonasera a tutti, buonasera Giglio, rimettiti. Cercheremo di rimetterci il prima possibile. Avete a disposizione il Sindaco di Monte Carlo per circa un'ora per porgergli le domande sui più svariati argomenti. Vi ricordo il numero della trasmissione per inviare sms con le domande, il 360 10 38 330. Non è più quello dell'anno scorso, è cambiato, è per quello che lo ripeto ogni volta. Mi raccomando, domande molto stringate e molto precise in modo da far rispondere agevolmente il Sindaco. Allora, Sindaco, come da tradizione anche in questa puntata, iniziamo con la buona notizia che lei ha portato per i suoi concittadini. Sì, una buona notizia, anche una nuova sorpresa per Monte Carlo. Dalla metà di questo mese sarà a disposizione dei residenti di Monte Carlo una nuova corsa nel trasporto pubblico, che sarà credenza settimanale il mercoledì e collegherà le frazioni del Comune di Monte Carlo con il capoluogo, nella fascia della mattina chiaramente, e con il nostro Camposanto di Vivinaia, allo scopo di offrire due tipi di oggettive necessità che hanno i nostri cittadini, soprattutto più anziani, o privi di patente di guida, che è quello appunto di poter visionare e visitare sia quelli che sono gli uffici pubblici nel centro di Monte Carlo, che sono ancora tenuti in piedi, amministrazione pubblica chiaramente, uffici postali, la banca, gli alimentari, la nostra biblioteca, tutti i servizi infracomunali che sono a disposizione del cittadino, e al tempo stesso visitare i nostri cari, che sono tutti conservati nel cimitero di Vivinaia, laddove sorgeva la vecchia Monte Carlo. Un servizio, questo mi fa piacere precisarlo, che per coloro che sono privi della patente di guida, per coloro che hanno superato praticamente 75 anni d'età, vede il rimborso della corsa da parte dell'amministrazione comunale. Cioè come funziona? Si paga il biglietto e poi c'è il rimborso? Poi si riporta chiaramente i biglietti in comune e l'amministrazione pubblica fa il rimborso. Quindi si tratta solamente di precisarlo, ma l'informativa la posso lanciare stasera a NoTV e non molto piacere. Sicuramente una bella iniziativa. Le posso chiedere come ci è riuscito? Ci siamo riusciti grazie alla barbietà dell'assessore trasporti pubblici Luca Gallegani, che praticamente già dal primo mandato sognavamo di poter introdurre una corsa che facilitasse il collegamento fra le frazioni di Monte Carlo col capoluogo. L'occasione ce l'ha fornita il lavoro magnifico svolto con le amministrazioni di Porcali Alto Pascio nel rinnovo a una gara a tre di quello che è il trasporto scolastico. E in questo modo siamo riusciti nelle mori di una gara particolare anche a farsi offrire un servizio che per noi era un'esigenza a questo punto per le fasce più anziane e deboli del comune di Monte Carlo. Bene, siamo partiti davvero con una bella notizia e allora è già arrivata una prima domanda iniziamo subito il nostro dialogo con i cittadini. Buonasera, dopo il buon esito della riqualificazione di Piazza d'Armi come intendete proseguire sul riordino di tutta l'area adiacente? Grazie e saluti. Allora, partiamo dalla Piazza d'Armi. Quando era venuto nella scorsa stagione a questa trasmissione si era parlato di questi lavori, di queste inaugurazioni che c'è stata effettivamente questa estate. Sì, primo agosto un cantiere velocissimo grazie soprattutto a questa magnifica procedura che è il bando di sponsorizzazione che mette nelle mani del privato non solo il costo dell'opera primo esempio in provincia di Lucca ma anche la lavorazione sul campo che abbiamo seguito con tutti gli uffici giornalmente durante questa magnifica estate lucchese e ci ha permesso in due mesi di rendere la cittadinanza una piazza riqualificata e pronta a ospitare non solo, speriamo per il periodo più breve possibile in tempo, l'area di sosta ma anche tutte le nostre manifestazioni principali a partire dal magnifico settembre montecardese che si è concluso da poco e che ha dimostrato che insomma la piazza sa rispondere a queste esigenze. La piazza si aggancia al resto della riqualificazione delle aree di accesso al nostro borgo antico di Monte Carlo, la progettazione è quasi terminata. Gli obiettivi di fondo quali sono? Sono quelli di facilitare fra virgolette la vita dei residenti di Monte Carlo nel centro storico facendo di trovare il posto macchina sotto casa nelle vie secondarie del borgo antico però al tempo stesso lavorare all'abbattimento delle polveri sottili nel centro storico di Monte Carlo aumentare la pedonalizzazione del centro storico cercando di renderla la più ampia sia dal punto di vista temporale che degli spazi nel centro storico lungo il corso dei 365 giorni e al tempo stesso però avere nella parte di ingresso del paese la piazza d'armi e la zona adiacente che è un campo di proprietà dell'amministrazione come aree di sosta per più di 200 veicoli in modo che il turista nel momento in cui si avventura sul borgo di Monte Carlo non abbia più a far confusione fra virgolette con quelle aree che sono riservate ai residenti e ai detti servizi. Questo per creare una pace sociale fra virgolette fra i nostri residenti e i nostri addetti al commercio nel centro storico del paese ma al tempo stesso anche dare maggiore fruibilità al centro storico. Se non ho capito male i turisti parcheggiano fuori. Dovrebbero parcheggiare fuori e dovrebbero essere facilitati perché questo progetto prevede, ne parliamo ormai da decenni a Monte Carlo non solo una riquirificazione del parco che è sul fondo della piazza d'armi ma anche un mezzo meccanico, stiamo studiando definitivamente quale sarà col minore impatto possibile in termini ambientali e di costi e manutenzione soprattutto dei secondi costi e manutenzione che potremo realizzare sicuramente con gli interventi di fondi anche con l'intervento della Fondazione Cassa di Risparmi con fondi di carattere regionale perché le nostre risorse sono impegnate altrove vedremo dove e quindi chiudere il cerchio su quella che è la riqualificazione per questo XXI secolo per il centro storico di Monte Carlo. Ecco, per chi non avesse seguito il dibattito prima di che mezzo meccanico parla? Sicuramente dovrebbe trattarsi di un ascensore capace di abbattere praticamente la pendenza più forte che c'è tra la salita dalla piazza d'armi al centro storico di Monte Carlo. Quindi i turisti parcheggiano, lasciano la macchina lì, prendono l'ascensore e vanno in centro. Fanno un tratto ancora chiaramente a piedi avventurandosi nella zona della piazza d'armi e poi sono agganciati a un piccolo ascensore che dovrebbe farli sbarcare tranquillamente anche per abbattere le barriere architettoniche nel centro di Monte Carlo. Questo progetto si realizza prima della fine di questo mandato? Assolutamente, non c'è un minuto da perdere. Lo garantisce lei? Assolutamente lo garantisco, ma non è per il mandato che va risolto. Va risolto per lo sviluppo economico. Abbiamo visto che il progetto l'ha lanciato lei. Certo, l'abbiamo lanciato, lo vogliamo realizzare in tempi rapidissimi, prima possibile per lanciare Monte Carlo, fra virgolette, nel firmamento che gli compete. Questa perla di Lucchesia, finalmente liberata dal veicolo, sia come transito, sia come sosta, riconsegnata ai nostri residenti e anche ai turisti lucchesi che possono trovare in Monte Carlo una mattinata, un pomeriggio, una serata magnifica da passare fuori città. Bene, allora passiamo alla seconda domanda. E già si scantona, perché qui viene tirato in causa, non come sindaco, ma come esponente del centro-destra. Tanto era una domanda che le volevo fare anche io, quindi la anticipiamo semplicemente. Alla luce dei risultati delle elezioni provinciali, delle quali lei è stato il principale promotore per il ricompattamento del centro-destra, quali possono essere gli sviluppi futuri? È un po' generica come domanda, però ci serve per introdurre l'argomento. Sì, il lavoro che c'è da svolgere ora, dopo il voto provinciale, che è solamente stato un pretesto per cercare di rimettere al tavolo tutte quelle che sono le componenti, le anime, le prospettive, le sensibilità del centro-destra che fu, che conosciamo tutti, la Cassa delle Libertà, piuttosto che il PDL, è quello di ripartire attraverso una piattaforma che parli dei problemi della Lucchesia. Cioè, ognuno conservando la sua identità può tornare sicuramente a un tavolo e ricreare un collante di queste forze alternative alla forza del Partito Democratico solamente attraverso i contenuti e dai contenuti passare a delle regole condivise, che sono quelle che hanno reso allo sfascello dell'attuale centro-destra, che continua a perdere pezzi, a dividersi in una prospettiva nazionale che manca. Quello che possono fare Lucchesi, l'hanno dimostrato questa prova di un mese lampo, ma dove il 20 di agosto non si poteva neanche parlare di un centro-destra lucchese, e il 20 di settembre ce lo troviamo con il 35% dei consensi in un non voto ridicolo come quello della provincia, è quello appunto di ripartire dai contenuti e delle regole. Abbiamo dato una grande prova e siccome sono solamente gli uomini che possono fare la differenza in questo cammino politico, se i lucchesi capiscono quello che è questo tipo di passaggio, parlo dei nostri amministratori, potremmo essere un laboratorio politico non solo per la Lucchesia, ma per il resto della regione e per l'Italia intera. Lei pensa che il centro-destra sarà ricompattato, faccio un'ipotesi, in vista delle elezioni comunali a Lucca, per esempio? È l'obiettivo più grande che ha anche una persona che abita a Monte Carlo. Nel momento in cui la provincia è diventata uno spettro, nel momento in cui in regione siamo rappresentati, ma potremmo essere rappresentati in modo migliore, la riconquista del capologo lucchese è la sfida dei moderati di questa provincia ed è il modo per far brillare Lucca all'interno del firmamento toscano per quanto riguarda gli sviluppi del nord della Toscana. E questo è un obiettivo che dobbiamo cercare di non farci mancare, dalla Garfagnana alla Versilia arrivando a Monte Carlo. Lei sente molto questo ruolo? Assolutamente. Questa chiamata al ricompattamento del centro-destra? Assolutamente. Io ci lavorerò in maniera determinante, è un atto volontaristico che mi porta dai tempi dietro del liceo, ho sempre fatto politica, l'ho sempre fatta correntemente a destra, oggi non ho tessere, ma per il semplice motivo che le ritengo superfue per quello che c'è da fare, c'è semmai da rimborcarsi le maniche, questo sì, e credo che la prospettiva sia quella appunto di cominciare a ricompattare un po' i ranghi salvaguardando l'identità di ciascuno. Per questo motivo io sarò pronto anche, credo fra una settimana insieme ad altri in Toscana, a lanciare un nuovo network che raccoglierà tutto quello che il centro-destra fa sull'attività amministrativa a livello regionale e a tenere una linea politica di coloro che vogliono unire anziché disunire l'area dei moderati. E posso anche anticipare qui quello che è il titolo di questo network, si chiamerà Il Battito, la voce di diversamente Toscani, e sarò a modo per far capire effettivamente che il concetto di fondo riparte di qui. Se c'è il battito, c'è vita. E chiedo che un centro-destra organizzato sia una nota positiva per la democrazia italiana e forse anche un contrattare che Renzi sta aspettando e che oggi non ha. Per intenderci, si troverà su internet? Si troverà su internet, ma noi speriamo anche di averne una copia cartacea di approfondimento trimestrale. Bene, abbiamo avuto allora anche questa anticipazione dal punto di vista politico, tanto penso proprio che ritorneremo a parlarne di questi temi durante la serata, però i nostri telespettatori ci riportano sul territorio con una domanda veramente concreta. C'è un'emergenza a Cinghiali? Evidentemente anche a Monte Carlo. Ieri tra un po' ne carico uno in macchina, ci scrive Riccardo. Le risulta? Sì, siamo stati nell'ultimo periodo, eravamo felicemente, probabilmente in un periodo di forfortunato, cioè non ci sono arrivate segnalazioni né di danni né di problemi alle auto o ai veicoli in transito. Conferma Riccardo che anche io sono stato incrociato da una fitta schiera di cinghiai e cinghialini, questa volta non li ho salvati, ma hanno attraversato la strada salendo la località a Luciani, abbiamo prontemente segnalato alle autorità provinciali la situazione, quindi molto probabilmente anche noi andremo nella direzione di prendere provvedimenti. Attraverso un abbattimento? Eh, sicuramente. No, una misura che prenderà quindi tra poco? Ah, senza nessun tipo di problema. Bene, allora ci fermiamo per un primo breve break pubblicitario, torniamo tra pochissimo perché nel frattempo tra l'altro sono arrivate anche tante domande. A tra poco. Di nuovo a diretta Sindaco con il primo cittadino di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi, che è qui a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini. Allora riprendiamo subito la nostra conversazione con la domanda che è appena arrivata. Buonasera Sindaco e complimenti per il suo comune. Se fosse un Sindaco della Garfagnana, come si opporrebbe allo smantellamento dei nostri servizi sanitari da parte della Regione Toscana? Firmato Roberto. Se fosse un Sindaco della Garfagnana, alla luce anche di quello che ho visto in conferenza dei sindaci il giorno delle elezioni di Tambellini, oggi mi potrei solamente che dimettere. Visto che io ho assistito personalmente una diatriba sul fatto di protestare o meno per quello che riguardava il giudizio da dare sul vecchio direttore dell'ASL. I miei colleghi sindaci si ricorderanno che a un certo punto mi alzai in piedi e precisai e domandai se ero in conferenza dei sindaci o al congresso del Partito Democratico. Io credo che l'unica cosa che potrebbe fare oggi un sindaco è veramente fare un casino pubblico, generalizzato, costante, diretto, finché qualcuno da Firenze non si riprende e si rimangia qualche cosa. Perché siccome le decisioni sono state prese in quell'ordine di cose, solamente in quell'ordine di cose oggi possono essere, secondo me, ritrattate. Ci sono argomenti che in Regione Toscana vengono veramente, si potrebbe parlare a lungo anche della questione dei migranti, ma ben me ne guardo, lo faremo dopo, vengono fatti in maniera che ricorda molto il monocratismo dei certi califati. E la cosa mi lascia veramente perplessa. Quindi io sono col cuore con la cittadinanza di tutta la Garfagnana e sono magari anche a disposizione di tutti i miei colleghi sindaci che magari oggi potrebbero sentirsi nella veste di radenti e cercare di protestare un pochino meglio con la Regione Toscana che mi sembra stia andando avanti. Gente, firmate per il referendum, mi raccomando. Lei si riferisce al referendum? Per l'arbocrazione dell'introduzione delle norme sanitarie e dell'ultima riforma fatta dal nostro governatore. Che tante le indovina e qualcuna no. Allora, altra domanda. Cosa intendete fare l'amministrazione dell'edificio dove c'era la ex scuola di San Salvatore? Allora, l'ex scuola di San Salvatore che è interessata da un progetto che stiamo cercando di farci finanziare e con veramente grandi difficoltà ma portiamo avanti la cosa dovrebbe continuare a ospitare insieme all'archivio comunale che ci abbiamo già spostato una parte dell'archivio comunale sedi per le nostre associazioni di riferimento su San Salvatore quindi donatori di sangue il grepe ciclistico Marco Giovannetti il nostro gruppo storico dovrebbe ospitare anche anzi ospiterà chiaramente anche una sala ambulatoriale per i nostri medici cittadini una volta erano i medici della mutua allora non mi viene il termine ma comunque per i nostri medici di riferimento generici il medico generico e al tempo stesso essere protagonista di questo progetto sul fotovoltaico visto che l'edificio è abbastanza particolare è in grado di fornirci l'energia necessaria a controbilanciare il costo energetico del comune di Monte Carlo che seppur costruito negli anni 80 funziona praticamente ancora con riscaldamento elettrico con altre fantasticherie che negli anni 80 ci aspettavamo di poter superare invece ci troviamo insomma sì sì ce l'abbiamo lì sul groppone come si dice a Monte Carlo allora questa non è una domanda è una frase sibillina firmata ancora da Riccardo se non sbaglio che aveva già mandato un messaggio prima immigrati sì puntini puntini clandestini no puntini puntini beh riassume bene anche se non è esauriente qui ci si rifà un tema che sta interessando tutto il paese ha interessato anche la provincia di Lucca la sta interessando ricordiamo che il suo è uno dei comuni che ancora almeno al momento non accoglie profughi è una sua precisa scelta questa? no questa è una precisa scelta in riferimento a quella che è stata fino ad oggi la politica del territorio di Monte Carlo il rispetto della mia comunità perché come sta benissimo la conferenza dei sindaci che si è svolta insieme al prefetto e l'assessore regionale precisiamo che Monte Carlo non solo non aveva le strutture pubbliche per ricevere nessuno ma che le nostre strutture ricettive nel periodo di alta stagione erano tutte occupate che questa non era una scusante ma che la morfologia che la struttura urbanistica e comunque lo sviluppo del mio territorio in quel momento non mettevano nelle condizioni nessuno di poter avere ospitare migranti e che lo testimonia anche l'andare vacante di un bando fatto dalla prefettura in giugno e anche le richieste che vengono rivolte al numero verde che ha presentato Enrico Rossi dove qualsiasi privato può chiamare per mettere a disposizione riabitazioni quindi non è stato un no secco categorico di principio perché in qualche maniera abbiamo una c'è da parlare la pancia di qualcuno o abbiamo posizioni di qualche genere Io cerco di interpretare magari quello che pensano i telespettatori a casa che dicono ma come anche nel caso di Alto Pascio un sindaco come lei che conosce benissimo il suo territorio comunale non riesce a trovare un edificio o un qualcosa che possa poi costituire un alloggio per eventualmente ospitare i profughi il dubbio potrebbe rimanere No no ma non ci deve essere nessun dubbio noi siamo anche pronti a cooperare a quella che è un'emergenza di Stato quello che abbiamo contestato e continuiamo a contestare è il metodo con cui viene praticamente gestita questa situazione sia dal governo nazionale che veramente ci inciampa male con quello che ha attivato la regione toscana e anche col ruolo che viene fatto svolgere dal prefetto che io ne sono nel cuore del nostro signor prefetto viene fatto gestire una situazione che probabilmente è più grande del ruolo che gli compete li ha telefonato ultimamente assolutamente ci siamo visti abbiamo parlato della possibilità che Monte Carlo faccia uno sforzo in questo senso ma Monte Carlo non deve fare uno sforzo Monte Carlo ha chiesto delle spiegazioni su un metodo di gestione che non condivide quindi non è la questione di prendere un clandestino piuttosto che un profugo di guerra o fare distinzione di carattere religioso ricordiamo che la prefettura ovviamente non le chiederebbe di prendere clandestini ma profugo assolutamente però le percentuali che vengono distribuite ufficialmente lasciano un po' amareggiati però la questione è scadente nel modo in cui viene gestita cioè soprattutto è scadente questo continuo vomitare addosso alle amministrazioni comunali e ai sindaci in particolare tutto quello che non funziona in questo paese cioè tutto viene scaricato dal governo centrale sulla testa dei sindaci ma siamo matti? cioè io mi ritrovo fra virgolette con le risorse tagliate per fare le spese veramente le sociali non sto facendo il demagogo in questo caso qui per tappare le buche nelle strade che la mattina quando passano mi fermano tutti perché c'è da sistemare le strade al tempo stesso finanziamenti che sono dell'Unione Europea ma sono sempre nostri anche si trovano tranquillamente invece per gestire situazioni di questo tipo che sono diventate un business e questo che sono di attento un business penso che non sia la follia poterlo dire ma sia riconoscimento infatti di una cosa che a me mi fa solamente che rabbia è il fatto chiaramente che la solidarietà a un certo punto qui ha un costo ed è una cosa che mi turba profondamente quello che io posso dire tra gli spettatori che nel momento in cui un'emergenza di questo genere sulla quale non c'è nessun tipo di data di scadenza non c'è nessun tipo di progetto di largo respiro c'è gente che la sera prende e se ne va non si sa dove fra virgolette lasciano i punti di raccolta vanno a cercare probabilmente i paesi dove vogliono arrivare come destinazione ultima nel nord dell'Europa Monte Carlo lo farà quando va le garanzie che coloro che si mette in casa abbiano un'idea di quello che vogliono fare in questo paese se vogliono restare in questo paese coinvolgerò sicuramente al tavolino le realtà associative di casa mia dalla Ciconfeternia dei Misericordi piuttosto che le nostre parrocchie per dare una risposta comunitaria non politica a quella che è un'emergenza quindi comunque lei non chiude la porta io non chiudo ma Monte Carlo non chiude assolutamente la porta noi siamo tutta la civiltà lucchese una civiltà di accoglienza plurimillenaria come la nostra identità cristiana e cattolica qui si tratta però di farsi sulle amministrazioni problematiche che il governo non sa gestire e allora che cosa pensa dei sindaci che invece hanno preso ma guardi quando siamo stati in riunione a metà luglio non ho visto grandi facce diciamo così piene di gioia nel prendere i rifugiati nel proprio comune e lo si vede anche dai numeri non solo a quell'epoca siamo un mese fa metà dei comuni non aveva ancora preso i migranti nel comune di residenza ma non erano mica tutti di centodestra poi erano anche di centosinistra e poi è bello che qualcuno prende magari 4-5 persone gli sembra di essere San Francesco e non è bello neanche questo io non ne sto facendo una questione di politica per l'amor di Dio ne faccio una questione di principio e chi era con me quel giorno col prefetto se lo ricorda benissimo posi 4-5 questioni di merito all'assessore che si infuria un po' dicendomi Fantozzi e lei la butta in politica dove vuole che la butti all'assessore regionale se di politica fate di politica rispondo quindi Monte Carlo non è assolutamente contrario a nulla però se prendiamo 4 persone le mettiamo a Monte Carlo o 8 persone o 12 perché qui poi non c'è neanche una misura ultima che possa misurare questo tipo di emergenza fateci sapere quanto devono restare che cosa devono fare che cosa dobbiamo fare noi per loro cosa devono fare loro per noi cioè è una società solamente di diritti acquisiti o vogliamo far capire che in qualche maniera l'Italia è un paese dove il dovere conta anche qualcosa quindi la solidarietà poi in questo caso si accompagna anche con risorse pecuniarie non indifferenti caro Conca mi lascia veramente fortemente perpresso questo principio per cui si è solidali poi a un certo punto si è solidali però fino a un certo punto perché ci sono quelli che quando ne hanno preso i 4 sono già stati già abbastanza solidali e questo ti dà la misura un po' di quanta artificiosità ed ipocrisia ci sia dietro questa situazione drammatica Europa in primis Unione Europea in primis Lasciamo perdere l'Europa che qui siamo a diretta Sindaco se no si vola troppo alto Concordo Allora i telespettatori ci fanno ritornare sui problemi del territorio quali sono i prossimi lavori pubblici che ha in programma l'amministrazione per questo fine anno 2015 Grazie Allora se la provincia ci rilascia un'autorizzazione per il restringimento delle carreggiate e delle vie provinciali arriva questo ulteriore opera sulla riqualificazione dell'accesso al borgo di Monte Carlo che dovrebbe consentire di creare una nuova area di sosta che dovrebbe essere a sostegno dei pullman di turisti che sempre più frequentemente si affacciano su Monte Carlo e la creazione di percorsi pedonali con marciapiedi a ridosso dell'ingresso sempre nel centro storico quindi è un progetto che riusciamo a fare insieme alla provincia di Lucca cantierato cioè cantierato ormai da prima del voto delle regionali di questa primavera e che si rientra un po' in quel meccanismo di grande lavoro che dicevamo all'inizio della trasmissione che collega un po' la piazza d'armi con tutti gli elementi all'ingresso del paese di Monte Carlo per riuscire a fare appunto di Monte Carlo quell'isola pedonale che ne accrescerà sicuramente il valore in tantissimi termini Altra domanda quest'anno abbiamo avuto una notevole affluenza turistica intanto conferma questo? Sì, confermo i dati ufficiali sia della nostra Proloco efficientissima che quelli della provincia con l'assessore a bambini che saluto Una notevole affluenza turistica per tutto il periodo estivo quali sono i prossimi obiettivi su questo versante? Bisogna continuare a rendere la vita del turista la più semplice possibile noi abbiamo il Vangelo secondo Paolo Lazzadeschi gestore del ristorante Lanina per cui ci dice sempre che il turista quando viene si deve sentire a casa ed è diventato un po' il light motif il nostro vice sindaco insieme agli assessori sia alla cultura ma ai lavori pubblici giocano un po' in sincronia in questa situazione e credo che quello che dobbiamo fare appunto è sia per le infrastrutture e per la sosta che si accompagnano come si diceva prima alla riqualificazione dell'accesso al borgo antico sia gli interventi di caratteri culturali e di cartellone continuare a lavorare nonostante la carenza di risorse faccio presente che quest'anno avvenuti meno 8 mila euro di contributi dalla Camera di Commercio piuttosto che da altri enti l'assessorato al turismo è riuscito comunque a portare avanti vinaria la festa del vino ed altre cose che hanno avuto un incremento di successo nonostante quindi probabilmente quando si impara in povertà a utilizzare bene le risorse non c'è bisogno neanche di buttare via troppi soldi pubblici altra domanda buonasera in merito al parcheggio per i residenti pensate di provvedere in modo repentino assolutamente io non posso che ringraziare tutti i giorni la cittadinanza che abita all'interno delle mura di Monte Carlo perché dimostrano un senso civico e anche uno spirito perché no comunitario non indifferente negli ultimi dieci anni si è notato un incremento sostanziale un po' sia degli eventi che della gente che sale su al borgo ed è il mio compito preciso ed è qui che dobbiamo ottenere forti risorse quello di mettere in tranquillità i residenti del borgo di Monte Carlo perché poi il residente di Monte Carlo è una risorsa in quell'ottica lì cioè la bellezza di Monte Carlo la felicità di questo borgo è anche nello spirito di appartenenza che hanno i suoi residenti i suoi residenti sono come dei guardiani lo sono in tutti gli aspetti cioè non c'è bisogno neanche fra virgolette effettivamente dico io dell'operatore ecologico anche se il buon Pietro è con noi il ragazzo dell'ascite però c'è uno spirito di rispetto di dignità per questo borgo che è eccezionale come sindaco io ne sono oltremodo orgoglioso anche se vengo da San Salvatore che è diciamo la capitale da basso un po' del comune di Monte Carlo va bene ci fermiamo di nuovo per la pubblicità poi torniamo alle domande e ce ne sono ancora molte da fare al sindaco Vittorio Fantozzi tra poco siamo di nuovo in diretta con diretta sindaco il sindaco di Monte Carlo Vittorio Fantozzi allora prima di riprendere a rispondere con le risposte alle domande via tramite sms dei cittadini le faccio vedere una fotografia se la regia ce la può mandare la vediamo insieme eccola qua questo è come il sindaco di Monte Carlo ha passato se non sbaglio l'ultimo ferragosto ovvero lei stava lavorando per la riasfaltatura di una strada e questa non è l'unica foto che circola appunto su quello che è stato anche ridefinito il sindaco operaio anche se so che questa definizione non è che le piaccia molto non è corretta forse però le dicono anche ma che serve fare queste cose si vuole mettere in mostra che cosa risolvere che cosa risponde? rispondo che è un costume mentale chi mi conosce a Monte Carlo sa che non sono elementi periodici o fatti per farsi fare solamente la fotografia quello penso che abbondi e basti il nostro presidente del consiglio che è un grandissimo esperto in materia io sono portato a pensare e questo me l'ha inculcato non solo casa mia ma soprattutto il servizio nel quinto reggimento alpini che le cose si fanno sempre dal basso e si fanno sempre condividendole in ogni settore così come ogni imprenditore di questa provincia sa che per mandare avanti un'impresa si deve fare il lavoro del proprio operaio del proprio addetto e conoscere qualsiasi meccanismo della macchina che si pilota che sia un'impresa ma in questo caso anche un comune il fatto di essere in giro con i miei cantonieri di capire quanto è difficile talvolta superare problemi che sembrano una discussione da affrontare al caffè quando spende il caffè al bar è qualcosa che a me mi ha cambiato radicalmente e lo si vede nel modo in cui in maniera molto oculata spendiamo i soldi pubblici a Monte Carlo tutte le cose costano oggi di tutte le cose difettiamo non ci sono risorse quasi per far niente tante volte l'intervento del sindaco anche a fianco di un cantoniere se non è di un dipendente comunale la mattina è un modo anche che dal punto di vista del morale di far capire che si deve lavorare in squadra che la squadra produce meglio che lavorare singolarmente e che credo che fare il sindaco a Monte Carlo già che è cravatta prenderei probabilmente molto più del biscero che a farmi trovare col badile in mano quindi continuerò a lavorare col badile in mano continuerò a lavorare a fare quello che ritengo che sia opportuno fare per conoscere sempre meglio quello che è non solo il mio territorio ma anche la meccanica della pubblica amministrazione ci puoi ricordare quali lavori ha fatto personalmente? ma allora forse i più i più drammatici sono stati quelli delle nevicate del 2009 e 2010 e credo che la presenza sul campo a dare una mano nel momento in cui veramente una nevicata come quella ci mezzi a tutti in croce sia stato un po' lo scatto generale poi siamo passati chiaramente a fare interventi di carattere manutentivo di ogni tipo chiaramente non è che sfidiamo le nostre capacità un uomo deve conoscere i suoi limiti io conosco perfettamente i miei ma nel momento in cui si può fare una cosa che fa risparmiare tempo e denaro alla pubblica amministrazione e alla pazienza del cittadino io la faccio molto volentieri che poi mi riesca bene un altro paio di maniche per ora stiamo resistendo però c'è qualcuno che potrebbe fare la battuta così quando finisce di fare il sindaco ha imparato un mestiere no io quando finisco di fare il sindaco spero di seguire le orme paterne e di portare avanti con coraggio l'azienda che ho anche se io non sono non riesco a essere la metà del mio babbo per questo non ce la farò mai neanche essere nella metà va bene allora andiamo avanti con le domande dopo aver messo in sicurezza il tratto di mura del borgo di Monte Carlo crollate a seguito di un evento calamitoso come intendete procedere per il recupero e la valorizzazione di questo monumento la domanda è firmata da Francesca questa è una domanda molto interessante noi abbiamo prodotto presenteremo a breve un master plan dedicato a tutta la nostra scinta muraria un'opera su cui abbiamo lavorato da quando si sono presentate le circostanze che ricordiamo di questo scendimento di una parte di mura nel marzo del 2013 poi messe repentinamente in sicurezza grazie a un finanziamento ricevuto dal ministero dei beni culturali tramite la sovintendenza di Luca che ringrazio non so quante volte facciamo fatto che la ringrazio all'infinito e questo master plan portato avanti all'interno del piano strutturale del quale stiamo per adottare la variante generale seguito dai nostri dallo studio associato Rocchi e Puccetti di Lucca col sostegno diretto della sovintendenza è forse il documento più importante prodotto nella storia di Monte Carlo su questo argomento non so da quando forse dalla fondazione del comune stesso mancava uno studio generalizzato che portasse a intervenire sulla scinta muraria questo strumento è creato apposta per andare poi nella direzione di intervenire nella manutenzione e rivalorizzazione della nostra scinta muraria che insieme a quella di Lucca è un esempio appunto di città ancora ben fortificata come Monte Carlo nel suo piccolo allora proseguiamo a scorrere le domande sono una cittadina di Maggiano avrei bisogno di avere un colloquio con il sindaco può chiedergli se è possibile incontrarlo in che giorni e dove grazie guarda glielo ho domandato in questo momento quindi se ha un orario di ricevimento io il venerdì mattina ricevo tranquillamente tutti come dal parrucchiere non c'è bisogno di prendere appuntamento né di domandare di cosa si deve parlare col sindaco non ci sono filtri se il venerdì mattina è una problematica basta chiamare il centrino del comune e fissare un appuntamento a disposizione allora Matteo ci fa una domanda interessante traendo spunto dalla nostra conversazione precedente il prossimo lavoro che farà da cantoniere quale sarà? se lo volete sapere ho il mio capogruppo di minoranza che saluto Bernardini che nel formularmi un'interrogazione appunto mi ha posto dicendo lei che salva i cinghiali lei bellissima meravigliosa forse la più bella interrogazione che abbia mai visto da quando sono nell'amministrazione pubblica insomma mi dice mi rivolga a lei anziché agli uffici perché c'è da mettere un cartello che manca quindi non mancherò di rendere onore al mio capogruppo di minoranza e come ho questo cartello mi farò immortalare ma non per il grande pubblico solo per lui e gli farò una dedica personale per aver messo questo cartello in via di San Giuseppe ecco abbiamo soddisfatto allora anche la curiosità di Matteo Ilenia invece ci domanda se è prevista a San Giuseppe l'area sgambatoio per i cani sì siamo noi che siamo in ritardo qui mi devo togliere il cappello perché stiamo cercando di dare precedenza a una risposta che mi arriva dalle famiglie e dai genitori che è quello di implementare i parchi pubblici con giochi costantemente nuovi messi alla prova dura dei nostri energici figlioli che usurano i giochi che hanno un costo che non c'è sindaco cantoniere che tenga per aggiustare vanno ricomprati immediatamente nuovi di pacca impegnando fortemente le nostre risorse spero che nell'anno 2016 sia possibile al lato della scuola dove è previsto poter arrivare in fondo alla disponibilità di questo privato che ci aveva dato un'area ma che oggi ha dovuto frenare sulla stessa area per problematiche di carattere personale e familiare quindi il ritardo è dovuto anche a questo e me ne scuso allora in attesa delle prossime domande le faccio io invece una domanda lei ha sempre avuto ha sempre dimostrato di avere a cuore la questione sicurezza per quanto riguarda Monte Carlo e ricordiamo l'anno scorso che ci fu anche una polemica con la prefettura sulla questione delle forze in campo per contrastare i fenomeni di macro e micro criminalità lei periodicamente mette in guardia i suoi cittadini sull'allarme truffe l'ha fatto se non sbaglio anche pochi giorni fa su truffe possibili truffe telefoniche a cui sono sottoposti i cittadini da questo punto di vista nell'anno che è trascorso è cambiata la situazione è migliorata è peggiorata no io devo fare qui un tanto di cappello al comandante fedele che se ne è andato oggi in servizio credo a Firenze mi sembra che l'arma dei carabinieri abbia rimodulato l'attenzione sul territorio quindi io sono grato a tutti i nostri uomini dell'arma e ai corpi divisi gli urbani di tutti i comuni della Piana che mi sembra ce la stiano mettendo veramente tutta però la situazione chiaramente va impeggiorando cioè le truffe che vengono escogitate a di là della fantasia degli italiani sono qualcosa veramente di pesante che mettono in condizione gente che magari vive da sola o gente che magari non ha un approccio mediatico di aggiornamento continuo viene presa costantemente sotto mira è una di quelle lotte che si devono portare avanti sempre soprattutto quando si riveste una funzione pubblica che è un po' il discorso del cantoniere cioè non è divertimento fare il cantoniere il cantoniere lo faccio anche perché c'è da lottare contro il nulla che avanza questo degrado che è continuo costante si passa da Monte Carlo si lancia la lattina dal finestrino oppure appunto viene uno ti spacca il finestrino della macchina parcheggiata sono cose per cui se si lascia un giorno cioè se si cede un giorno si cede un metro ed è un metro che si riguadagna in un mese quindi l'attenzione che io pongo queste questioni non è perché in qualche maniera mi dipingo uno sceriffo appunto un cantoniere ma credo che sia proprio una parte dei miei doveri e la sicurezza della proprietà pubblica dell'incomunità pubblica è al primo posto in questa situazione abbiamo rinunciato a volerci difendere da soli perché ci difenda lo Stato io sono lo Stato cerco di fare quello che mi è possibile chiaramente tra l'altro ecco a questa risposta si aggancia anche un altro episodio che avvenne l'anno scorso lo riportiamo alla memoria anche dei nostri telespettatori lei che venne assediato in comune insieme a un dirigente da parte di una famiglia che abita in via Poggio Baldino ci fu un po' di polemica perché insomma si trovò da solo a dover affrontare questa situazione intanto ricapitoliamo un po' com'era questa storia e com'è andata a finire è una storia molto particolare è la storia di chi compra un pezzo di terreno agricolo che agricolo rimarrà per sempre a Monte Carlo ci pianta sopra una casa mobile poi viene a chiedere la residenza in comune poi con la residenza in comune chiede i buoni per andare alla scuola i buoni presentando un ISE 0 e poi andando a giro con la Mercedes o col BMW io ho sempre detto e ribadisco mi ricordo che venissi a fare il servizio per me questa gente può venire da Marte può venire dalla Norvegia non ne faccio assolutamente una questione particolare in questo caso si tratta di una famiglia di Rom o di Sinti ma potrebbero venire appunto dalla Norvegia dalla Scandinavia non cambierebbe assolutamente nulla sono venuti facendo degli abusi di lizi su Monte Carlo e poi chiaramente cercando di sanarli e di passarci anche da vittime allora siccome gli abusi a Monte Carlo non si compiono soprattutto quando sono reiterati e vituperati in questo modo ci trovano duro quindi siamo in tribunale in questo momento sul fatto specifico dell'abuso di lizi c'è già anche un sequestro di autorità giudiziaria dove hanno rotto i sigilli cosa che se avesse fatto chiaramente probabilmente un italiano e quindi guardi non parlo da pancia si sarebbe trovato assolutamente nei guai e qui invece ci giriamo un pochino i pollici io comunque ho la grandissima fiducia nell'operato delle nostre autorità giudiziarie e non potrebbe essere altrimenti e non solo il sindaco di Monte Carlo si aspetta una risposta ma anche il circondario in quella zona circondario che paga le tasse e sta al servizio fra virgolette di una società rispettando le regole questo è un pochino meno quindi comunque c'è un processo in corso assolutamente ovviamente aspettiamo e mi dispiace spendere soldi della cittadinanza in queste cose ma sono questioni veramente di principio queste non sono bazzecole aspettiamo quale sarà l'esito però della giustizia prima dell'ultima pubblicità c'è tempo per un'altra domanda un telespettatore che era rimasto indietro cosa ci farete in piazza d'armi ci chiede ancora parcheggio o la destinerete a eventi grazie anticipatamente della risposta si si va in progress più aumentano gli eventi che si possono fare su piazza d'armi ed è pronto a farlo c'è il wifi libero e gratuito ci sono le prese di corrente per ospitare chiunque dal summer festival o al mercato o al mercato settimanale oppure chiaramente in questa fase storica continuare anche a sostenere l'onere del parcheggio della sosta che a Monte Carlo è ancora gratuita quindi venite a Monte Carlo in qualsiasi periodo dell'anno e continuare a fare un servizio anche di pubblica utilità è chiaro che così bella non l'avevamo mai vista forse non si è mai vista da quando è stata progettata che doveva fare la rassegna militare nel 600 dei nostri soldati a disposizione del presidio della fortezza però sicuramente l'idea di poterla domani avere più per la cittadinanza con grandi eventi che meno a parcheggio avremo un'area di sosta adiacente è l'obiettivo di fondo che ci portiamo però ogni cosa ha il suo tempo non solo burocratico anche il suo tempo naturale quindi di qui partiamo area di sosta area di eventi progressivamente meno sosta più eventi bene fermiamoci allora per l'ultimo break pubblicitario poi l'ultima parte del nostro programma tra poco ultima parte della nostra trasmissione con Vittorio Fantozzi sindaco di Monte Carlo in camicia bianca particolarmente renziano questa sera sì Renzi prima moda quando girava col camper e non ancora col jetta in reazione io stasera ho voluto diciamo così ricordarlo perché non ce lo ricordiamo più via chissà se lei sarà il Renzi del futuro l'ho buttata lì allora sono previsti cambiamenti sostanziali sul piano urbanistico per sbloccare dei lotti che per anni si sono pagate solo tasse la domanda è un po' è un po' così però è interessante la risposta è non stai sereno perché a questo punto sei veramente re la risposta è sì la domanda è precisa secca la risposta è altrettanto precisa e secca sì quindi si sbloccheranno così assolutamente sì ma cosa significa che si va a costruire? no assolutamente ma guardi erano già interventi di identificabilità all'interno delle auto e delle aree già residenziali previste anche dai vecchi piani di fabbricazione per essere resi edilizie non sono mai partite perché abbiamo fatto in modo e in maniera di complicare la vita al cittadino noi si sta facendo esattamente il contrario dobbiamo renderla semplicissima la vita al cittadino quindi sono interventi che vengono fatte in aree in cui la destinazione a zone edilizia erano già previste nel regolamento urbanistico e piano strutturale del 2003 noi le confermiamo e le portiamo a poter essere realizzate un saluto da Michele presidente di Agenda per Lucca Montecarlo che posizione tiene nei confronti dei profughi? un saluto abbiamo già risposto ampiamente però rispondiamo un saluto l'agenda per Lucca perché è lo strumento che serve per far vincere una coalizione di moderati su quello dicevamo prima all'interno della città di Lucca la questione dei profughi io mi ribadisco bisogna essere nettissimi e chiari noi siamo contrari al metodo in cui viene attualmente gestito questo dramma internazionale siamo sempre disponibili a parlare di accoglienza se c'è un criterio di accoglienza perché è quello che fa l'amministrazione Fantozzi è quello che fanno i montecarlesi da sempre caro sindaco ma quando lo metterà il fontanello per l'acqua a Montecarlo domanda firmata da Tiziana allora ne abbiamo inaugurati due nel mese di settembre uno in località Gossi che saluto e l'altro in località San Salvatore con una partnership insieme ai nostri frates donatori di sangue di San Salvatore che donano il sangue e a questo punto donano anche l'acqua uno stesso tipo di lavoro lo stiamo progettando lo anticipo con i frates di Monte Carlo si tratta solamente di aspettare il glorioso cinquantesimo del gruppo donatori di sangue di Monte Carlo saluto il presidente Pallini e l'ex presidente Carrara Massimo quando cadrà il prossimo anno quindi abbiate pazienza nel frattempo ci sono tre fontanini a circa un chilometro e mezzo dal capoluogo vi aspettiamo c'è acqua da tutte le parti per non parlare del vino in attesa delle ultimissime domande le faccio una domanda attinente anche alla stagione Monte Carlo è famosa per il vino certo il famoso vino di Monte Carlo quest'anno si dice che la vendemmia sia veramente eccezionale si dice tutti gli anni che la vendemmia la vendemmia è ottima però magari non tutte le volte è vero quest'anno però sono tutti d'accordo nel dire che l'uva è di qualità eccezionale e il vino lo sarà altrettanto si è un po' come il discorso che si esce dalla crisi tutti gli anni si esce dalla crisi ora Renzi ha detto che quest'anno si esce dalla crisi ma il sindaco Fantozzi precisa che quest'anno è un'annata veramente eccezionale però si mette la camicia bianca come Renzi si anche perché è un bel colore però l'annata è veramente eccezionale le condizioni climatiche sono quelle per tutti quelli che lavorano su Monte Carlo i nostri più anziani anche agricoltori chiamiamoli contadini io preferisco la parola agricoltore o rurale perché siamo una terra di questo genere danno le indicazioni e lo dà chiaramente l'uva che viene tagliata presa in mano e osservata dai nostri per aspettarsi veramente un'annata coi fiocchi e quindi preparatevi tutti perché il vino che avrete sulla tavola voi altri tutti lucchesi nell'anno 2016 sarà un vino particolarmente buono e stiamo lavorando per voi nelle cantine di Monte Carlo Senta prima il nostro telespettatore ci ha fatto quella domanda sulla questione dei lotti da sbloccare ma complessivamente qual è stata la sua condotta sulla gestione del territorio a Monte Carlo perché c'è una netta differenza sul territorio che lei amministra c'è la parte cosiddetta nobile della fortezza di Monte Carlo e poi ci sono i territori circostanti qual è stata la condotta che ha tenuto in questi anni e quello che farà in futuro? No, qui noi andiamo in una linea di continuità di quello che i montecarlesi ci hanno chiesto nel 99 quando il centro-sinistra frana su queste questioni perché era in preparazione un bellissimo piano strutturale dove avremmo cementificato buona parte di Monte Carlo è stata quella di salvaguardare sotto un profilo chiaramente ambientale urbanistico un disegno di Monte Carlo che oggi basta prendere Google Map per vedere che cos'è Monte Carlo all'interno della Val di Nievole o della Piana Lucchese e di conservare attraverso un uso intelligente dell'urbanistica un tessuto umano cioè quello che noi facciamo difendendo l'urbanistica di Monte Carlo e decidendo dove far edificare attorno a quelli che sono gli abitati oggi è cambiata la legge regionale bisognerà parlare in altri termini ma quello che noi vogliamo fare è attraverso un uso oculato fra virgolette della risorsa urbanistica mantenere in piedi la nostra comunità noi non prevediamo di far crescere la nostra comunità di qualche centinaio o migliaio di persone sul territorio e di far lavorare fra virgolette l'edilizia non ci pensiamo neanche lontanamente chiaramente la ripaghiamo anche in termini di trastazione questa scelta ma l'idea è quella di mantenere il tessuto ricavato da decenni forse da secoli di lavoro delle nostre generazioni passate e lasciare le generazioni che vengono non solo il lotto edificabile ma una qualità della vita che indubbiamente è molto più elevata che in tante altre parti della Lucchesia non è un merito dell'amministrazione Fantozzi che non fa altro che difendere questa posizione e portarla avanti è un merito della comunità montecarlese che ha capito e compreso quello che è il valore della terra prima ancora di altri prima di chiudere ci dica se ha un sogno nel cassetto particolare per Monte Carlo qualcosa che vorrebbe realizzare che ancora non ha accennato o ha accennato poco ai suoi concittadini io vorrei presa di sorpresa con questa domanda no io l'unico sogno che ho guarda non faccio come il signor prefetto non ci dorme la notte con problemi io convivo con 29 famiglie che non hanno lavoro o dove un componente della famiglia non ha lavoro tante volte si scambia il sindaco col sindaco di 40 anni fa che magari può avere le conoscenze o le capacità di un andreotti qualsiasi io queste possibilità qui non ce l'ho il comune è piccolo il comune è povero ha le sue ricchezze ma non riesce chiaramente a garantire il lavoro che invece arriva dai comuni limitrofi e dalle zone industriali se io riuscissi a consumare parte di me stesso delle mie forze per mettere in condizione queste persone di vivere in tranquillità sarebbe veramente il sogno da realizzare ci provo tutti i giorni ma diventa un incomum invece che un sogno perché tutti i giorni arriva qualcuno però c'è la ripresa quindi speriamo nella ripresa speriamoci speriamoci davvero ci conviene a tutti grazie grazie al sindaco Vittorio Fantozzi che è stato nostro ospite questa sera grazie ai telespettatori che ci hanno seguito fino a adesso buona serata appuntamento tra sette giorni con diretta sindaco grazie a tutti grazie a tutti